eccoci qua oggi prova della nuova etna pro c'è tonino con la sua tures pro ora ve le faccio vedere e poi si va a provarle etna pro tures pro due telai completamente differenti questo è il meglio dell'alluminio e questa non si sa se è il meglio del carbonio che nemmeno si è provata quindi molto bella ma questa è la differenza sostanziale oggi si farà sta prova ci si scambieranno e si valuterà un po come va questa full carbon via ammortizzata rispetto alla nostra tures ti garba questa etna pro tonio ma ti garba il colore però lo vedi quale il discorso prima di partire senti e zitti e qui niente comunque a me mi garbano a me non mi garbano oggi si provano e si vede che banda è giornata di merda però si va lo stesso allora è vero siamo venuti a provare bici no però vi voglio far vedere qui da questo podere che spettacolo allora guardate quello laggiù è il famoso poggio covili con i suoi cipressini bellissimo guardate che scorcio spettacolare ecco questo siamo un podere caratteristico io penso sia come posizione uno dei più belli perché da una parte vede foggio covili e dall'altra qui ancora siamo a discutere sulla etna pro e da quest'altra parte si vede le terme di bagno e vignoni allora sensazioni a caldo allora sensazioni a caldo ve le dico io queste gomme qui buone per fuoristrada ma ne scorrono per niente ti sembra che ti tiri indietro la bici le vittoria martello ormai è una conferma sensazione di leggerezza te la dà questa giusto ma è più leggera perché il canotto questa inclinazione qui è più chiusa perché questa nasce però il mountain e invece questa è un'endura estrema quindi questa piega qui essendo più aperta ti aiuta sia in salita che in discesa però la senti meno maneggevole davanti perché è più aperta poi comunque va provata ora per ora si è provata nella strada buona va provata nella strada valorto i cerchi questi fanno una scorrevolezza esagerata i cerchi della mavic che poi pesano meno deve fare inglese quindi meno peso nelle ruote lo senti subito perché te c'ha da farla girare la ruota quindi più pesa e più forza ci devi mettere per farla girare capito allora questo è il classico rumore del carbonio sentite ora qui siamo una strada buona però il telaio tende a rimbombare questo è lo svantaggio del carbonio il fatto che il telaio tende un po a rimbombare mentre si pedala sensazioni la bici l'etna pro scorre bene è una bici nata per lo montai non è una bici da enduro assolutamente e la tures è una bici da enduro e la pedabilità è eccezionale perché ha una scorrevolezza eccezionale quindi per le strade a sterro per chi cerca il comfort va benissimo per l'enduro consiglio la tures ora poi la proveremo anche nel brutto però il telaio questo telaio qui nell'enduro tende un po a rimbalzare la tures con quell'ammortizzatore posteriore montato la superiore questa è il mio giudizio per ora vai ora stacco e pedalo allora siamo arrivati al fiume orcia guardate che spettacolo quello è uno che addestra i cani questa è la nostra etana pro un po infangata ma se ce la danno da per provarla ma infangata guardiamo come è messa qui a livello pi tende un po a fermarsi lo sporco e difficilmente si riesce a pulire a parte questo poi va abbastanza bene telaio in carbonio si leggera si pedala bene ma non è un telaio rivoluzionario come poteva essere questo niente si prosegue siamo di rientro siamo al mulino della val d'orcio questo è un vecchio mulino e macina il grano della val d'orcio qualità top allora sensazione per chi ama la scorrevolezza e la pedabile la pedalabilità è un grande mezzo per chi ama il fuoristrada vero o l'enduro quella è meglio ora si vede qualcosa e si riparte siamo rientrati a casa etna pro come è andata ora procederò al lavaggio per capire bene anche come è fatta perché quando si va a lavare una bici si vede anche le problematiche nel nel pulirla perfettamente quello che che vi devo dire è che non mi ha entusiasmato ovvero è una bici di listino che viene 6.900 euro bella marzocchi bomber z1 e il bomber al posteriore cerchi mavic telaio in carbonio pimpete pampete mettiamoci a livello di scheda tutto quello che volete però 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 29 29 è una bici o il montai non è una bici da enduro in questa questo dopo pieghe di questo telaio se la se la mandate a velocità in una discesa balorda la tures e un altro pianeta con l'ammortizzatore a molla messo in in orizzontale questa per chi va bene questa va bene per chi ama fare in comodità grossi chilometraggi 29 29 scorre veramente bene si pedala molto bene nell'asfalto nella strada sterro proprio va via però poi quando si mette sul brutto in discesa o in salita è caricata molto davanti per chi ama l'enduro vero consiglio la tures in ad aluminio idroformato per chi ama un all monta in una bici per fare tutto e che scorra che vada molto bene in scorrevolezza ecco questa è una bici fantastica e molto molto bella tutta qui l'abbiamo provata per voi quindi niente alla fine de salmi la nostra etna pro è una bici che per i 6.900 euro io non comprerei ma comprerei una tures una tures pro o una tures team che ora si trovano scontate a prezzi interessanti quindi anzi vi farò un'offerta anche io prossimamente all'inizio della primavera sulle tures pro e le tures prim team e le ritengo per chi ama fare fuori strada ad oggi il miglior mezzo di tutti quelli che ho provato tutto qui quindi il mio giudizio è questo è indicata per chi non fa enduro vero ovvero per chi vuole una bici o il monta in con una durata della batteria infinita una batteria da 750 su un telaio un carbonio quindi consuma un po' meno della tures però 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 mi è piaciuta più la tures un saluto a presto ci vediamo mi ricordatevi di iscrivervi al canale di mettermi un like e niente vado a lavare la nostra etna pro e ci vediamo la settimana prossima ciao a tutti